un guerriero della luce non assiste a un'ingiustizia con indifferenza sa che tutto è una cosa sola e che ogni singola azione colpisce tutti gli uomini del pianeta perciò quando si trova dinanzi alla sofferenza altrui usa la sua spada per mettere le cose in ordine ma benché lotti contro l'oppressione non cerca mai in nessun momento di giudicare l'oppressore ciascuno risponderà delle proprie azioni dinanzi a dio una volta terminato il proprio compito il guerriero non fa alcun commento un guerriero della luce è presente nel mondo per aiutare i suoi fratelli e non per condannare il prossimo manuale del guerriero della luce di paolo coelho per aiutare i suoi fratelli e non per alcun minuto Grazie a tutti.